Tia Taylor qualche giorno fa ha postato un video su YouTube dove raccontava la sua esperienza nell'acquistare una casa all'asta utilizzando un mutuo. Ha avuto veramente tante disavventure e oggi guardiamo insieme il suo video, lo commentiamo insieme e vediamo di capire qualcosa di nuovo. Mettiamo un attimo in pausa perché questa parte è importante. Lei ha vinto una casa all'asta, cioè si è giudicata una casa all'asta a febbraio del 2020 e oggi dopo 11 mesi, nel momento in cui sta registrando il video, ancora non è successo niente, non è ancora riuscito a comprarla e è al punto praticamente di partenza. Ora, è molto strano perché le aste di solito prevedono un tempo per saldare, andare a saldare il prezzo totale dell'immobile di 3-4 mesi, quindi probabilmente nel proseguo del video ci spiegherà come mai siamo arrivati a 11 mesi e come mai ancora siamo praticamente al punto di partenza. Ok, questa parte è importante, ha fatto una cosa secondo me molto intelligente, quindi prima di andare a partecipare alle aste o di cercare una casa è andata in banca a chiedere se avrebbe potuto ottenere un mutuo. Ok, questo è un po' quello che anche io dico sempre, prima di approcciarsi all'acquisto di una casa cerca di capire il tuo budget, cerca di capire se la banca ti dà credito. Qua non lo spiega, però è importante anche capire quanto credito, quindi quanto mutuo, quanto budget riusciamo a avere per il nostro acquisto, quindi non solo sì o no, ma anche quanto. Stop di nuovo perché sì e no, il broker può essere un'arma molto interessante perché effettivamente come Tia Taylor dice può essere una via più veloce, più facile per ottenere un mutuo, ma ci vuole un ottimo broker che sappia fare il suo lavoro e che sia diciamo coerente perché se troviamo un professionista che non sa lavorare oppure è lento, il vantaggio di avere un broker viene meno e comunque dobbiamo spendere del denaro. Ok, questo è un fatto reale che è effettivamente successo. Nel primo lockdown tutti i lavori non necessari sono stati praticamente bloccati e quindi la broker le ha detto non possiamo mandare avanti la pratica perché in ogni caso il perito non può uscire e venire a valutare la casa, quindi a periziarla e quindi siamo praticamente bloccati. Nì, nel senso che il broker avrebbe potuto comunque presentare la pratica, caricarla in banca in vista poi di uno sblocco, quindi della fine del lockdown, quando il perito sarebbe potuto uscire. In questo modo avrebbe sicuramente guadagnato dei mesi preziosi. Since I won the house at auction I kind of needed both of these institutions to be working correctly because say in July I decide to give the mortgage another try and I get approved in August. If the courts weren't operating I would have no protection in the case that the current occupant didn't want to leave and I could risk paying the mortgage and the rent on this house and not even be able to get into the house for much longer period than expected. Ok, questo è un discorso che comprendo, però c'è un però, perché lei dice se avessi mandato avanti il mutuo e le aste e i tribunali erano bloccati, quindi non potevo entrare in possesso della casa, erano bloccati per il cod ovviamente, e non potevo entrare in possesso della casa e avessi ottenuto il mutuo avrei dovuto pagare sia la data dell'affitto di dove abito adesso sia la data di mutuo. Nel senso che la banca fa partire il mutuo nel momento in cui diventa di tua proprietà la casa e quindi può iscrivere un'ipoteca, non prima. Quindi lei avrebbe potuto comunque mandare avanti la pratica di mutuo aspettando che i tribunali ricominciassero a lavorare anche perché la delibera ha una durata di sei mesi, quindi lei avrebbe avuto sei mesi per andare poi ad intestarsi la casa e il mutuo parte nel momento in cui si diventa effettivamente proprietari e la banca può iscrivere ipoteca, non prima. Quindi il fatto di pagare affitto e rata di mutuo secondo me era un po' un problema che poteva essere bypassato. In the end I told the broker and also the auction agent that at that point I would just wait to pay in January because I wanted to reduce the amount of backed condo fees that I would have to pay. Ok, ok, ok. In questa parte del video lei dice che avrebbe voluto acquistare la casa, quindi ha comunicato al broker e alla gente che avrebbe voluto acquistare la casa a gennaio perché come tutti sappiamo quando si compra una casa all'asta l'acquirente deve pagare gli ultimi due anni di spese condominiali. Ok, in queste cose le dice la compro a gennaio 2021 in modo che debba pagare solo gennaio 2021 e tutto il 2020, quindi non due anni bensì un anno e un mese. È una cosa che non mi torna molto perché in realtà si parla di ultimi due anni di condominio, non ultimi due anni solari e quindi non credo che lei abbia un vantaggio dal comprare a gennaio, però vediamo come va avanti la storia. Ok, fermo un attimo il video perché è interessante questa parte anche se non c'entra molto con l'acquisto all'asta, però l'avvocato le ha comunicato che quello che lei dovrà pagare per la casa che si è giudicata all'asta è sufficiente per coprire tutti i debiti che gravavano su questo immobile e quindi lei giustamente dà tre motivi per cui è contenta di questa cosa. Uno, i creditori, quindi la banca è contenta, soddisfatta perché ha ricevuto il suo credito indietro. Il debitore è riuscito a risolvere la sua situazione, quindi è praticamente libero dai debiti e tre ovviamente dice questo è un segno che il sistema sta funzionando bene. Ok, a questo punto ci ritroviamo in autunno 2020, la tia Taylor dice al broker di ripartire, di riprendere in mano la sua pratica e di portarla avanti, ma si va di nuovo in lockdown. Come sapete a fine ottobre c'è stato un aumento dei casi e quindi hanno di nuovo fatto dei lockdown un po' a intermittenza. Il broker le dice che non può mandare avanti la pratica perché appunto essendo in lockdown il perito non può uscire, non può andare in casa a fare la perizia di nuovo. In questo caso secondo me è una scusa perché ottobre, novembre, dicembre sono stati mesi in cui i periti hanno lavorato, le perizie sono state fatte, le banche hanno lavorato e quindi questa mi sembra proprio una scusa bella e buona, ma continuiamo a vedere. Ok, l'avvocato che segue la pratica le conferma quello che le stavo dicendo, quindi che il perito effettivamente avrebbe potuto andare a fare la perizia. Quindi il problema non esiste. Ok, altra secondo me cavolata perché prima diceva che il broker, la broker, prima diceva che non potevano andare avanti con la pratica perché il perito non poteva fare la perizia. Dopodiché lei si è informata con l'avvocato e le ha fatto presente la cosa e lei a quel punto si sta arrampicando sugli specchi dicendo sì ma non sapevo che l'avvocato avesse le chiavi dell'appartamento e un sacco di scuse. A questo punto lei, Tia Taylor, le chiede alla broker semplicemente di sbrigarsi, presentare la sua pratica. That's when she informed me that I should double check on that because the year that those fees refer to is rarely the actual January to December calendar year. More time wasted to find out that the calendar year wasn't January to December but May to April. And so the fact that I had done all that extra waiting to pay in January made zero difference and I would still end up paying almost two years worth of condos fees. Ok, qui abbiamo la conferma di quello che vi stavo dicendo riguardo alle spese condominali. Lei ripete alla broker che vorrebbe acquistare in gennaio per minimizzare le spese di condominio che avrebbe dovuto pagare ma si accorge, anche con l'aiuto dell'avvocato che segue la pratica per il tribunale, che in realtà il calendario condominiale non parte da gennaio e finisce a dicembre come l'anno solare ma parte da aprile e questa è una situazione abbastanza frequente. Di solito nei condomini è difficile che il calendario condominiale parta da gennaio e finisca a dicembre ma ho visto casi in cui parte appunto da aprile, può partire da settembre, ottobre, insomma non c'è una regola fissa ma vi consiglio quando andate ad acquistare una casa di controllare la documentazione condominiale, quindi i verbali di assemblea, il riparto spese condominali e il regolamento in modo anche da capire oltre alle spese anche quando parte il calendario e come sono strutturate le rate durante l'anno, questo vi consente di non avere sorprese quando andate a comprare una casa. Ok, qui abbiamo un po' l'evidenza di come si comportano alcune persone, in questo caso la broker le dice che la pratica era in ritrovazione, è in ritardo perché la persona, il funzionario di banca che sta curando la sua posizione ha il c***o e quindi non può mandare avanti la pratica. Ovviamente mi sembra strano che il tutto si blocchi perché è una persona malata in una banca con migliaia di dipendenti, però vediamo. Ok, qui si cade nell'incredibile perché lei fortunatamente conosce una persona che lavora nella stessa banca, in un'altra filiale ma nella stessa banca, ma può controllare sul CRM, sul gestionale della banca, se la pratica di Tia Taylor è stata gestita, che appunto è. Fa il suo controllo e le comunica che in realtà Tia Taylor per la banca non esiste, non è mai stata caricata una pratica a suo nome, non è mai stata fatta una richiesta. E questo stiamo parlando di dicembre, quindi ben dieci mesi dopo che lei si è aggiudicata la casa in asta. E questo ha dell'incredibile, ovviamente c'è poco da dire, semplicemente è responsabilità della broker che non ha fatto assolutamente niente fino a questo punto, nonostante abbia accampato numerose scuse, abbia detto che aveva già caricato la pratica, il perito non poteva uscire, perché sapete che il primo step è un'approvazione dalla parte della banca riguardo i redditi. Una volta avuta questa delibera reddituale, si chiama, c'è la perizia del tecnico. Quindi se la broker stava parlando del fatto che il perito non poteva uscire per fare la perizia, si suppone che avesse già caricato la pratica in banca e si suppone che la banca avesse già dato l'ok per quel mutuo. E in realtà non è così, perché non è mai stata caricata neanche la pratica nel gestionare della banca. Quindi a questo punto, a dicembre, Tia Taylor non esiste per la banca. Ok, in questo caso invece ha un colpo di fortuna, perché a causa della pandemia la deadline, quindi la scadenza per saldare l'acquisto della casa in asta, era stata spostata da giugno a febbraio. E qui si spiega anche il dubbio che avevamo all'inizio del video, quindi come è possibile che lei dopo 11 mesi sia ancora al punto zero e non abbia ancora acquistato la casa, se di solito i tribunali richiedono il saldo dopo 3-4 mesi, proprio a causa della pandemia. Hanno spostato la data di scadenza del saldo da giugno a febbraio dell'anno dopo. E quindi qua in realtà questa cosa le viene un po' in aiuto, perché dato che lei che è in ritardo con l'erogazione del mutuo, con la pratica di mutuo, questo le dà comunque la possibilità di provare ad arrivare in tempo. A questo punto il video termina. Tia Taylor ci rimanda ad un video numero 2 dove ci spiegherà le soluzioni che ha trovato e come è riuscita ad affrontare la situazione, che quindi commenteremo insieme e cercheremo di imparare qualcosa di nuovo. La stiamo usando un po' come cavia per il nostro prendimento, però ovviamente mettendoci nei suoi panni possiamo capire quanto la situazione sia stata difficile e stressante, quindi ovviamente mi dispiace per tutte queste disavventure. In ogni caso, scrivetemi nei commenti se avete avuto esperienze simili, ne possiamo parlare. Vi ricordo di iscrivervi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!